Amici carissimi, una santa sera da tutti, Ave Maria, bentornati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi, Adamo e la vita nella divina volontà, che è giunto alla quattordicesima puntata che ci porterà questa sera. Ulteriormente dentro questo mondo e la comprensione anche di alcune dinamiche, insomma caratteristiche del mondo, potremmo chiamare il mondo perduto da Adamo, è il mondo, speriamo, ritrovato da chi accoglie l'offerta di grazia fatta da nostro Signore. Volevo come via un attimo introduttoria, alla luce anche di comunicazioni che mi arrivano, chiarire alcuni aspetti in parte riguardanti Adamo, in parte riguardanti in generale la vita nella divina volontà. La vita nella divina volontà è un dono che il Signore fa lasciato liberamente all'accoglienza o alla non accoglienza di destinatari di questo dono. Se uno ci pensa bene, questa è una strada nuova solo in apparenza, perché è una strada che percorsa dai nostri progenitori, lo vedremo nella prossima volta, nella prossima puntata che dico prima che c'è un passo veramente straordinario e percorsa dalla Madonna, ma fondamentalmente insita nella vita cristiana stessa, d'accordo? Sentiremo dire questa sera che c'è grande differenza tra fare la divina volontà e possedere la divina volontà, però la via della divina volontà è, come dice Sant'Agostino, tanto antica e sempre nuova, ha certamente degli aspetti di novità, ma è fondamentalmente radicata proprio nella vita cristiana stessa. È evidente che non devi vedere questa cosa come se fosse obbligato o che ci fosse chi lo sa che cosa, insomma è una questione di vito di morte, che se io non lo faccio, chi lo sa che succede? Non succede niente, non succede. Ecco, come diceva Santa Teresa Davila, per andare in paradiso basta osservare i dici comandamenti e fare una vita da cristiana normale, d'accordo? Quindi, in tutte quante le cose, cioè Dio ama e desidera che noi serenamente, liberamente e tranquillamente ci orientiamo, ci orizzontiamo in questo mondo, ci entriamo gradualmente, gradualmente, pacatamente, serenamente, gioiosamente, quindi senza viverlo in forma, insomma, chiaramente dico queste cose perché ogni tanto mi arrivano, insomma, a fianco a riscontri positivi anche e, come dire, segnalazioni di questo genere, che esattamente dipendono dalle qualità soggettive, perché noi sappiamo, ecco, dal buon Aristotele che omnia reciprocola al modo un continente, cioè tutte e altre cose sono recepite a seconda del contenitore, no? Ecco, poi dobbiamo sempre pensare, questo è il primo aspetto, il secondo aspetto che qui stiamo facendo un ciclo di catechesi che si chiama, si chiama Adamo e la vita nella divina volontà, cioè noi dobbiamo cercare di, come dire, di entrare nella realtà del nostro progenitore, cioè che si trovava in una condizione, lo vedremo anche la prossima volta quando Gesù ci parlerà della potenza degli atti compiuti da Adamo prima del peccato originale, cioè faccio un prequel, cioè Gesù dirà che uno, eh, uno, compiuto da Adamo prima del peccato originale vale più di tutti quanti i santi che sono venuti da lui messi insieme, capito? Noi, già le cose di Dio sono sempre, questo io più anni vado avanti nel ministero e anche nella vita cristiana, insomma, che sono prete, ma come dice Sant'Agostino, per voi sono prete, ma con voi sono cristiano, quindi pure io cammino, sto in cammino con tutti quanti, cioè più uno cresce nel cammino, più impara che Deus, sempre maio, è sempre più grande, va sempre al di là delle nostre possibilità di comprensione, quindi ci si addentra come Mosè nella nube della sua gloria e però la nube aumenta di densità, nel senso che Dio è sempre un grande mistero, quindi questo è una premessa fondamentale, quindi però accostandosi al mondo di Adamo, noi dobbiamo capire che Adamo è una figura fondamentalmente misteriosa per noi, cioè è quasi impossibile, come dire, rappresentarci per noi quella che poteva essere la vita di Adamo, quindi certe cose, per esempio nella scorsa catechesi, se voi ricordate, insomma, cioè il nostro Signore ha detto insomma abbastanza grosse, ogni tanto ne spara alcune abbastanza grosse, nel senso che si fa capire che la situazione prodotta dopo il peccato originale, è una tragedia, è veramente una caduta libera a picco, in basso, una caduta che ha prodotto, e questo non deve essere preso in maniera tale che poi mi metta a dubitare della misericordia di Dio, assolutamente, però le conseguenze della caduta di Adamo, alcune sono gravi e irreversibili, cioè l'unica creatura che dopo Adamo non è passata per la morte, e non è manco sicuro, come dicevo ieri nell'ultima catechesi sull'assunzione fatta su Radio Buon Consiglio, cioè dice la Madonna è morta o non è morta? Alcuni sostengono che è morta, certo dicono che è morta perché doveva ricopiare in tutto Gesù Cristo, insomma, quindi siccome Gesù è passato per la morte, lei, la copia vivente di Gesù, doveva passare per la morte, altri dicono che non è morta per niente, altri dicono che ha avuto, come dire, una morte molto tra virgolette, molto molto sui generi, non una vera morte, e ho spiegato che è una posizione che sento molto a me vicina, però al di fuori della Madonna, che comunque era stata concepidenza il peccato originale, qui al cimitero ci andiamo tutti quanti, quindi non è che ci stanno eccezioni, al cimitero ci stanno tutti, ci sono pure San Giuseppe al cimitero, quindi al cimitero sì, e perché si va al cimitero? Si va al cimitero perché c'è stato il peccato originale? Punto, capite? Si va al cimitero perché c'è stato il peccato originale? Io sono soggetto alle sofferenze fisiche, morali, al disordine delle passioni, alla sofferenza fisica, perché c'è stato il peccato originale? Quindi, cioè, che significa? Questo significa che Adamo sta all'inferno, Adamo non sta all'inferno, Adamo è stato redento, da Gesù sta in paradiso, lo sentiremo la prossima volta, però i danni prodotti da quella cosa che ha fatto sono irreversibili alcuni, capite? Perché io non credo che prima della fine del mondo, oltre alla Madonna, ci saranno altre creature che non passano per il cimitero, d'accordo? Non credo proprio, non credo, non c'è nessun motivo per pensare come ragionevole una cosa di questo genere, vuol dire che questo è un danno irreversibile, l'irreversibilità di un danno non significa che non esiste la divina misericordia, così come, cioè, se uno fa un omicidio, è l'omicidio, secondo, cioè, se uno si ammazza una persona, pia una rivoltella e spara una persona, ho fatto un danno irreversibile oppure no? Qual è la risposta? È certo che è irreversibile, quello mica torna dal cimitero, che significa che non c'è la divina misericordia? Non è vero, no, che non significa questo, perché se io di questo mi pento e chiedo perdono al Signore, c'è la divina misericordia, cioè, quello che ha ammazzato la Santa Maria Coretti, il poro Alessandro Serenelli, al giorno della comunizzazione stava seduto a fianco alla madre, cioè, cerchiamo un attimo di capire sempre bene queste questioni, cioè, c'è il pericolo che una cosa, come dire, una spiegazione detta nella verità, perché bisogna dirla nella verità, cioè, che non possiamo mica dicere le buone menzogne, dopo va a produrre effetti, come dire, del tutto inappropriati, d'accordo? Perché il fatto che ci sia un danno irreversibile non significa che non ci sia misericordia, Gesù Cristo è venuto a redimerci, d'accordo? È venuto, nonostante il peccato originale, ma poi è il Redentore per rovesciare la situazione creata sia dal peccato originale. Il dono della divina volontà va oltre, nel senso che oltre che a beneficiare dei frutti della redenzione, ci consente in larga parte di poter riprendere il senso di questo ciclo di carichesi, recuperare quello che abbiamo perduto in Adamo. Questo è un dono ancora più grande che si fa nel nostro Signore, però attenzione, ecco, a prendere sempre in maniera corretta le cose che vengono dette. Insomma, ultimamente sto facendo molta attenzione a circostanziare, dire bene le cose, insomma, non lanciare messaggi troppo forti, troppo incisivi e troppo diretti, non perché non si debba dire la verità, ma appunto perché va ben presentata e va ben accolta. Non noto però, insomma, che c'è nonostante ogni tanto c'è qualche, come dire, ecco, pericolo sempre, ripeto, il discorso è sempre del contenitore che riceve un'informazione. Dire queste cose serve anche un pochettino ad aiutarci, perché questa è una cosa, cioè, le rivelazioni della piena volontà anche quando scendono in tratti drammatici, perché devono farci comprendere, cioè comprende quello che è successo ad Adamo, dice ma che mi importa? A me calma. Ci importa come? Perché se io vedo le conseguenze devastanti che ha prodotto il peccato originale, certo, il peccato mortale non è come il peccato originale, ma un peccato mortale produce danni, d'accordo? E a volte danni che possono anche diventare, come nell'esempio che ho fatto prima, un omicidio irreversibili. Da un punto di vista empirico, perché tu lo vedi di una persona che è morta, non è che se tu devi confessare quella poi risorge, è sempre morta, rimane. Ma non significa che non sei perdonato di quel fatto. Allora riflettere su queste cose, per esempio che io interiorizzo il fatto che il peccato originale ha prodotto dei danni irreversibili, mi deve aiutare a comprendere quanto sia importante stare alla larga, anche da ogni forma di peccato volontario, perché se non ci sono dei danni grossi come quello del peccato originale, se non tutti sono irreversibili, comunque produce dei danni brutti. Perché un punto fondamentale, non delle rivelazioni della divina volontà, ma della rivelazione cristiana, è che ogni male deriva dal peccato, ma di questo noi non ne siamo così tanto convinti. Se no staremo attenti anche a fare una minima forma di mare. Perché non ne siamo convinti? Perché di questo non ne abbiamo un riscontro empirico diretto. Non c'è. Ho detto recentemente, anche in un intervento recente, citando l'omelia di venerdì scorso di Santa Marta di Papa Francesco, parlava dei demoni educati. Fa sorridere, no? Chi sono i demoni educati? I demoni educati sono quelli che ti bussano la porta, ti entrano dentro caso, cioè tu li accogli dentro di te, ma non riconoscendoli come demoni. E tu te li trovi che agisci sotto il loro impulso, sotto la loro ispirazione, sotto la loro pompamento, senza accorgertene minimamente. Non ti può manco dipende. Capite? Quindi perché? Perché non te ne accorgi. Perché le cose della fede sono fatte così, se ce ne accorgessi non sarebbero più cose di fede. Per cui, cioè, che ti entri bene dentro l'anima è il concetto che sta attento a non fare i peccati, che dai peccati ti arrivi a ogni male. Unitamente però all'altro concetto, che se un peccato l'hai fatto, non prendere la rivoltella e spararti, perché esiste la misericordia, che non finisce mai, d'accordo? Non viene esaurita. Ecco, però come la misericordia non deve diventare un incentivo a fare i peccati, d'accordo? Da, siccome Dio è misericordioso, fa niente, uno più uno è meno, tanto poi non ha da confessare. Questo non va bene, d'accordo? Non va bene. Ecco. Ma non va manco bene, come dire, ignorare che se faccio un peccato produco dei danni e che quei danni non saranno risolti dalla misericordia di Dio. E che è meglio non produrli, evidentemente. E che questo me lo devo mettere bene in testa. Ecco, scusate queste parentesi, ma insomma, come sacerdote le ritenevo necessarie. Adesso passiamo al tema di oggi, che continuiamo a sondare, il ventunesimo volume, che c'è ancora due passaggi molto importanti, appunto, su Adamo e la vita nella Divina Volontà. Cito il primo, 22 aprile 1927, appunto, volume 21. Come fu grande il nostro compiacimento in questo primo atto della creazione dell'uomo? Avevamo creato cielo e terra, ma nulla di nuovo sentimmo in noi. Ma fu ben diverso nel creare l'uomo, con una volontà che veniva creata libera e in essa racchiudemmo la nostra, mettendola come al banco per riscuotere l'interesse del nostro amore, della gloria, dell'adorazione nostra, che a noi conveniva. O come ricurgitava in noi l'amore, come fremeva di gioia nello sboccare in questa libera volontà per sentirsi dire, ti amo. E quando l'uomo riempito del nostro amore esprigionò dal suo petto la prima parola, ti amo, grandissimo fu il nostro compiacimento. Perché fu come se ci desse l'interesse di tutti i beni che avevamo messo in lui. Questa volontà libera creata da noi era la depositaria del capitale di una volontà divina e ci contentavamo di tenue interesse, senza più pretendere il capitale. Perciò fu grande il dolore per la caduta dell'uomo, perché ci respinse il capitale per non darci il tenue interesse. Il suo banco restò vuoto e il suo nemico facendo lega con lui lo riempì di passioni e di miserie. Poveretto, restò fallito. Ora figlia mia, siccome l'atto della creazione dell'uomo fu un atto solenne di grande nostro compiacimento, chiamiamo e vogliamo te in questo atto, per ripetere la solennità dell'atto, mettendo nella tua volontà il grande capitale della nostra e mentre ci affacciamo il nostro amore rigurgita e freme di gioia, di grande compiacenza perché vediamo realizzato il nostro scopo. Tu certo non ci neguerai il tenue interesse, non respingerai il nostro capitale, non è vero. Anzi, ogni giorno faremo i conti. Ti chiamerò presente a quel primo atto quando creiamo questa libera volontà. Tu per darmi l'interesse ed io per vedere se posso aggiungere altro al mio capitale. E' fortissimo questo brano. Gesù fa degli esempi molto vicini anche al nostro mondo, anche al nostro mondo un po' tendenzialmente imprenditoriale, perché quando si parla di soldi diventiamo tutti quanti esperti investitori, basta che possano futtificare un po'. Gesù usa questa immagine, molto molto bella. Andiamo per gradi però, no? Allora, punto primo, questo si capisce già dal libro della Genesi. Gesù fa comprendere che tutta la creazione non ha dato a Dio nessuna gioia quanto quella dell'uomo. Perché nell'uomo, attenzione, è un termine ricorrente tante volte qui, e anche questo, ce lo dobbiamo mettere bene in testa, molto bene in testa, che è il termine libera volontà. Libera volontà. Libera volontà. Allora noi dobbiamo, guardate, cioè sempre, attenzione qui parla di libera volontà e non parla ancora di libero arbitrio. Non è la stessa cosa dire libera volontà o parlare di libero arbitrio, perché libero arbitrio è qualche cosa che sorge, proprio e propriamente parlando, e tecnicamente parlando, come conseguenza diretta del fatto che la libera volontà si discosta dal bene per cui era stata creata. d'accordo? Perché ci sono due livelli, spiega Sant'Agostino, di libertà. C'è la libertà dei figli di Dio, che è quella che aveva Adamo, d'accordo? Che è quella buona, d'accordo? Qual è? La libertà dei figli di Dio è orientarsi tra le varie forme possibili di bene, rimanendo sempre al di qua, quindi nel campo del bene. Cioè, io come spiega tante anime, il bene ha vari livelli, si va dal lecito al buono, al migliore e all'ottimo. Dentro questo mondo, tu eserciti la tua libertà. Per esempio, faccio un esempio sciocco, no? Io dico, vado a messa tutte le domeniche, se una domenica o una festa ha comandato, non vado a messa, esco dall'ambito del lecito. Quindi, questo, come dire, se ne fa, ma posso andare a messa due volte a settimana. Buono! Posso andare a messa quattro volte a settimana. Meglio! Posso andare a messa tutti i giorni. Ottimo! Questo è proprio un esempio proprio da... Così. Il rosario. Il rosario non sta neanche nell'ambito del lecito o dell'illecito, eh? La Madonna mi deve perdonare, ma non è che uno pecca, se non dice il rosario. Questo non si può dire, questo qui. Perché non è vero. La Chiesa ci insegna che si pecca se si rifiuta di rendere alla Madonna almeno un minimo di devozione. Perché la Madonna, in quanto madre di Dio, è, come dire, ha diritto per giustizia ad essere riconosciuta come tale ed avere un minimo di devozione da parte dei fedeli. Però se non si dice il rosario, non si fa peccato. Non c'è nessun obbligo, d'accordo, né nei comandamenti, né nella legge della Chiesa, di recitare il rosario. Anche adesso che il Papa ha chiesto di recitare il rosario, certamente non è una cosa fatta... Cioè, se il Papa chiede di recitare il rosario, insomma, un fedele... Non è che c'è un obbligo stretto, ma, insomma, è una cosa che ha chiesto il Papa motivandola. Cioè, ha chiesto a tutti i fedeli di intercedere con questa potente preghiera, persona Madonna, per il bene della Chiesa, accompagnandola con la preghiera a San Michele Arcangelo, l'antifiona sotto un presidium. Ma, vedi, chi non lo facesse, se deve andare a confessare, pecca, non è un peccato in senso formale. Adesso non c'è. Capito? Se è una cosa non buona, ecco. Ecco, quindi, non si fa nell'ambiente. Se uno lo dice, meglio. Se uno ne dice due, meglio ancora. Tre, meglio ancora. quattro. Se fa come padre Pio, che dice cento crone al giorno, e vi va a Dio, insomma, no? Ecco. D'accordo? Quindi, attenzione a questo punto. Ehi, la libera volontà deve essere un concetto fondamentale. Chiaro che poi, quando l'uomo conosce il male, e questa è stata proprio la tentazione del peccato originale, subentra un problema. Cioè, questa libertà molte volte diventa arbitrio. cioè, anche l'assassino, anche il criminale, esercita in continuazione la sua libertà. Capite? Ho ricevuto uno sgarro, che faccio? Lo gonfio le botte o lo ammazzo? Questa è una scelta di libertà. Non è chiaro che qui stiamo in scelte di due cose ugualmente negative. Quindi, questa non è più, però, capite, la libertà si esercita sempre. oppure, ma vatto uno sgarro? Difficile che un delinquente metta questa alternativa, però, lo gonfio o lo perdono? Ecco, questo è proprio libero arbitrio propriamente parlando. Perché libero arbitrio è la possibilità di scegliere tra il bene e il male. D'accordo? Faccio il bene o faccio il male. Ecco, questo Adamo, prima del peccato originale, non ce l'aveva. C'aveva solo la libera volontà. cioè, la possibilità di spaziare dentro l'ambito del bene. Sant'Agostino ha fatto delle lezioni stupende, insomma, su questo punto, no? E poi impariamo da questo brano un'altra cosa. Qualcuno ci ha mai detto qual è stata la prima parola che ha detto Adamo? I bambini generalmente con la prima parola dovrebbero dire mamma. D'accordo? Qual è stata la prima parola che ha detto Adamo? Abbiamo sentito, eh? Ha detto ti amo, ha risposto a Dio il suo ti amo. Gesù ha detto come ridurgitava in noi l'amore come femmina di Gioia non lo sboccare in questa libera volontà per sentirsi dire ti amo. E quando l'uomo riempito del nostro amore e sprigionò dal suo petto la prima parola ti amo non è, non ha detto Gesù quando ci ha detto per la prima volta ti amo. Attenzione, ha detto quando sprigionò la sua prima parola vuol dire che la prima cosa che ha detto Adamo a Dio è stata ti amo. Ecco perché allora qui capiamo, no? Mettere il proprio ti amo dappertutto, no? E questo ragazzi questo è un bellissimo esercizio, capite? perché la vita nella divina volontà donatemi ogni tanto insomma di vago ma qui non stiamo facendo soltanto accademia, no? Queste sono sempre catechesi finalizzate a chi desidera entrare in questo mondo. Allora, l'esercizio del ti amo cioè che non è soltanto dire Gesù ti amo va benissimo Maria ti amo va benissimo d'accordo? ma il nostro esercizio è imparare a mettere il ti amo in tutti gli atti della divina volontà. È un esercizio in cui dobbiamo capire l'esercizio chi va a sport se tu fai sport devi allenare cioè se no non fai sport se tu vuoi definire una sportiva se tu corri devi andare a correre cioè capito se tu sei il calciatore devi giocare a pallone se tu fai il tennis devi andare a giocare a tennis ok quindi questo esercizio va fatto va fatto con cioè imparare ogni tanto a mettere il ti amo dovunque ecco questa è una cosa che su cui occorre per noi esercitarci perché ogni volta che noi lo facciamo capite qui per entrare in questo mondo si tratta di ripetere gli atti capite più atti ripeti più ti addentri dentro dentro questo mondo è chiaro che se tu fatti una giornata non hai detto a Gesù un ti amo è una grazia mangi e non sei buona a dirgli metto il mio ti amo Gesù in questa cosa che tu mi stai dando alti gli occhi al cielo non sei buona a dirgli metto il mio ti amo nel sole vedi una cosa bella che ti arriva da parte di una creatura non sei buona a dirgli metto il mio ti amo amore mio nell'atto che tu mi porgi attraverso questa creatura intelligente che mossa dalla tua volontà mi fa questa gentilezza questa cosa bella eccetera eccetera Gesù ci dice che le tre persone divine sono andate e come dire fremevano di gioia non vedevano l'ora di sentire dire questa cosa capite cioè tante volte ci ho detto che la vita è nella divina volontà è una vita che fa stare bene cioè apre degli orizzonti nuovi belli d'accordo cioè quando una persona sta sempre a pensare al male cioè le cose che non funzionano le cose brutte cioè non si può campare in questo modo qui no cioè il pessimista c'è quella che sta sempre angosciato non è che mi voglio angosciare perché mi faccio i film no io sto angosciato perché senti i telegiornali senti le cose che succedono senti guarda gli articoli guarda le cose cioè Cristina è in mezzo a un mare di guai lo comincia a pensare a questo 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 e vede oh mamma mia che disastro e non si può campare cioè non si può campare così questa non è la vita nella nella divina volontà questa questa è la vita nella diabolica volontà d'accordo noi non possiamo campare come dire stando sempre a guardare le opere di satana perché il male è un'opera di satana non è un'opera di dio e quando non ci arrabbiamo peggio ancora quando non ci sdegniamo peggio ancora quando non giudichiamo a destra e a manca il tizio Gaio Semprone il politico il uomo di chiesa il vescovo il cardinale il prete il fedele il papa chi te pare cioè quanto meno ti fai un fegato grosso così ma io dico c'è qualche medico che ha ordinato di vivere in questo in questo modo oppure uno pensa e dice no 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 io vivo in questo modo perché mica sono un menefreghista ah no io mi devo preoccupare delle cose ti devo preoccupare in questo modo e una volta che tu ti sei fatto un fegato così d'accordo oppure hai scritto su facebook tutte le monnezze su destra e sinistra o hai scritto l'articolo e hai denunciato allora e poi che succede che è successo è successo che tu stai peggio da prima invece un atto divino d'accordo un semplice dicevo il tuo ti amo Gesù da questo piatto dei spaghetti che sto a mangiare che ti tenga una fame che non ci vedo ecco perché se è tanto buono ecco lo ricambio con il mio ti amo per me per tutti anche per tutti gli ingrati attiro un autotreno di grazia e di benedizione non soltanto su te ma su tutti e ti fa stare un po' più tranquillo capito ti fa campare un po' meglio cioè dico ci vuole tanto per non è che voglio voglio insomma cioè non è tanto difficile arrivare a queste cose certo è chiaro che uno prende coscienza cioè io cerco di avere la vita della volontà ma ogni tanto un telegiornale lo sento qualcuno deve deve sapere come dire il necessario del mondo in cui stiamo campando delle situazioni anche per trasformarle in preghiera anche per portare nel cuore insomma al Signore l'anelito di tutte quante le creature ma entro entro certi limiti questo dobbiamo dobbiamo comprenderlo secondo aspetto ci picchi al tempo corre di questo di questo primo brano il discorso sul capitale e il teno interesse qual è il capitale che Dio aveva dato il capitale è la divina volontà ho detto che forse la prossima volta ci attende credo che sia nel volume 23 un passo bellissimo che spiega proprio bene come la vita di una divina volontà sia vita di possesso cioè non è semplicemente che tu ogni tanto ti orienti e dici ma che vorrà questo Signore lo capisco e lo faccio non è solo questo cioè la divina volontà si può perché così era per Adamo possedere cioè diventa una cosa tua d'accordo è un possedimento è un capitale che ti viene dato Gesù dice io te do il capitale e te lo lascio d'accordo non lo rivolgo indietro voglio semplicemente qualche piccolo tenue interesse che sono i tenue interesse mettere in giro un po' di ti amo tenue interesse tenue interesse e scordarsi di avere una volontà propria e quindi proprio vivere in stato di abbandono nelle mani di Dio senza cominciare a fare tre mila obiezioni ah ma se allora faccio così se allora faccio colare allora se perdono tutti sono uno scemo della situazione non fa niente non si può non c'è stata la giustizia tutte cose qui è un tenue interesse è un tenue interesse è un tenue interesse ecco ma il capitale che ci viene dato è veramente inestimabile d'accordo immenso e purtroppo che cosa è successo col peccato originale è stato respinto il capitale un capitale insomma di valore inestimabile infinito per non dare l'interesse cosa è successo banco resta vuoto dice Gesù e l'uomo va a fare lega col suo nemico cosa si ritrova niente capitale banco vuoto e riempito di passione e di miseria Gesù aggiunge un altro termine molto molto comune di cui fa una lezione un po' di diritto commerciale poveretto restò fallito quando una persona va fallita che da un punto di vista della legge umana è un disastro mi ricordo quando studiava il fallimento le procedure concorsovali te venia l'angoscia te venia insomma un fallito un civilmente dichiarato fallito andato a studiare la legge cosa succede? è veramente c'è la morte civile per fallimento è una debacle è un disastro Adamo a titolo personale questo disastro poi l'ha sperimentato per tutta quanta la vita perché lui lui personalmente il dono della divina volontà perduta non l'ha ricevuto più ah non l'ha ricevuto più ecco e adesso vediamo un'altra cosa un altro passaggio sempre del 21 del 21esimo volume che è l'8 maggio 1927 abbiamo tempo sì ok quando la mia volontà vuole parlare prima vede se c'è spazio dove mettere il grandono della sua parola che può essere un altro cielo un solo un mare ancora più grande ecco perché molte volte la mia volontà tace perché manca lo spazio nelle creature attenzione dove poter deporre il grandono dell'immensità della sua parola e per poter parlare prima biloca la sua volontà e poi parla e depone nessà stessi su doni immensi fu questa la ragione per cui nel creare l'uomo gli demmo il più grandono l'eredità più preziosa la più ricca la nostra volontà depositare in lui per potergli dare le sorprese dei nostri doni immensi della parola del nostro Fiat come ci respinse la nostra volontà birocata non trovammo più lo spazio per poter deporre in lui il grandono della nostra parola creatrice perciò restò povero e con tutte le misere della sua volontà umana attenzione adesso il punto di cui vi parlavo che differenza tra chi vive nel mio volere e chi fa solo la mia volontà questo è un punto fondamentale degli iscritti di Iurisa Piccarreta la prima la possiede e la tiene a sua disposizione la seconda è sottostante ad essa e a seconda delle sue disposizioni riceve e dal possederla al riceverla c'è distanza come dal cielo alla terra c'è distanza come da chi possiede immense ricchezze e chi giorno per giorno riceve ciò che è di assoluta necessità perciò chi fa la mia volontà e non vive in essa è costretto a sentire la debolezza le passioni e tutti gli stracci e miserie che sono il corredo dell'umana volontà vabbè finisco di leggere perché sarei tentato di fare una sosta però poi la facciamo tutta quanta insieme tale fu lo stato di Adamo prima di sottrarsi alla divina volontà tale fu lo stato di Adamo prima di sottrarsi alla divina volontà essa gli fu dara dal suo creatore come il dono più grande perché conteneva tutti i beni in uno tutti i beni in uno lui la possedeva la dominava attenzione ai termini la possedeva la dominava e si faceva reggitore di questa volontà divina perché Dio stesso gli aveva dato il diritto di padroneggiarla quindi era padrone della forza della luce della santità della felicità di questo eterno Fiat invece quando si sottrasse ad essa perdette il possesso e il dominio e si ridusse a ricevere non a possedere come cosa propria gli effetti della mia volontà a seconda delle sue disposizioni e chi si trova in condizione di ricevere è sempre povero non è mai un ricco perché il ricco possiede non riceve ed è in condizione di poter dare agli altri parte dei suoi beni allora qui c'è un punto chiaramente fondamentale questo è uno dei punti proprio veramente assolutamente basilari per la comprensione degli scritti di Luisa e per la comprensione anche proprio dell'iscriminante di che significa che cos'è il dono della divina volontà perché si chiama il dono della divina volontà perché il dono è qualche cosa che io ho e lo do d'accordo cioè la sua volontà Dio non vuole semplicemente farcela fare vuole donarcela perché ne diventiamo come dice qui di Adamo padroni diritto di padroneggiarlo possesso tale che ce ne avanza da darla agli altri allora prima cosa da fare creare a Dio degli spazi qui c'è un eco del Vangelo di San Giovanni quando Gesù in polemica con i parisi comincia a dire la mia parola non trova posto in voi tra non moltissimo arriverà il benedettissimo Natale il momento per me più bello dell'anno che succede a Natale Gesù è andato in una stalla perché perché non c'era posto in loro nell'albergo non c'era posto allora qui cosa sta dicendo sta dando come una una dritta Gesù sta dando come un un input un segreto uno sprone vuoi entrare in questo mondo devi cominciare a spalancare le porte perché se Dio trova spazio in te Dio ti parla Dio ha molto più voglia lui di parlare con te che tu di ascoltarlo molta di più ma quando questo non lo fa è perché non trova spazio guardate che questo nostro non lasciare spazio al Signore viene parafrasato nel nostro linguaggio comune con il non ho tempo che è la più balla più grossa che si possa raccontare primo al Padre Eterno e secondo a noi stessi perché che non abbiamo tempo non è vero questo mettiamo ce l'ho bene in testa non è vero perché il tempo per quello che ti sta a cuore lo trovi sempre voglio vedere se quelli che non hanno tempo dicono lo trovi tempo per andare al cinema lo trovi tempo per vedere televisione quello che ti piace lo provi tempo lo trovi tempo per quel lobby lo trovi tempo per andare a fare shopping lo trovi no non è un problema dell'avere il tempo perché il tempo noi ce l'abbiamo e come da quando ci svegliamo fino a qua andiamo a dormire noi abbiamo delle ore a disposizione si va bene parte devo lavorare ma non è che uno lavora 24 ore su 24 il tempo lo spazio voi sapete perché a un certo punto furono costruite le chiese non soltanto perché erano finite le persecuzioni dopo Costantino e quindi si poteva esercitare pubblicamente il culto quindi certamente c'è anche questa dimensione nella costruzione di un edificio sacro ma la chiesa serve anche delimitare uno spazio capito la chiesa è uno spazio di Dio in chiesa tu non puoi fare con me come te pare perché quello è uno spazio sacro in chiesa si parla di Dio si parla con Dio punto perché appunto l'area delimitata da quelle mura consacrate delimita uno spazio ma non è cioè che capite non è che Dio sta in chiesa fuori dalla chiesa non ci sta ma la presenza di Dio in chiesa è una presenza come dire per antonomasia somma capito come spazio a lui riservato quello stesso spazio che la chiesa riserva dentro un piano urbanistico al culto nel tuo cuore deve starci per Dio perché ciò che la chiesa rappresenta deve essere ciò che nel tuo cuore ci sta perché se Dio non trova spazio in te Dio non ti parla e se Dio non ti parla ma tu lo sogni nella divina volontà perché nella divina volontà non è che Dio ti parla ogni tanto è intermittenza quindi Dio ti spiega ti spiega ti spiega senti mo ti faccio capire che voglio una di questa cosa dopo di che buonanotte il prossimo suggerimento te lo do tra tre giorni no è una cosa continua perché se tu la tua volontà ce l'hai presso di te la sua volontà ce l'hai presso di te come tuo possesso tu ci nuoti qui dentro come si arriva a questo per questo si arriva a questo punto primo lo sappiamo ogni tanto facciamo un pochino di ripasso perché io penso chi ascolta queste catechesi presumo come tutte le altre catechesi che girano sulla divina volontà ripeto non vuole ascoltare soltanto una lezione accademica e dire oh che bella catechesi oh quanto sono belle queste cose vuole muoversi ma la prima cosa sono le conoscenze ce l'abbiamo l'ho spiegato tante volte sono le conoscenze sapere capire anche queste cose capire anche queste dinamiche profonde cioè tu questa sera che sai che la prima cosa che ha detto Adamo a Dio è ti amo quindi quanto sarà importante cominciare a entrare in questa cosa tanto tu sai che c'è differenza tra il possedere una cosa e che Dio la volontà vuole dartela come dono la sua volontà perché perché tu possa essere ricco un signore un gran signore non semplicemente uno che guarda il signore appunto come con lo spirito di servo anche con lo spirito di figlio obbediente d'accordo ma sempre ecco in un atteggiamento come dire di in qualche modo di mi viene da dire di minorità d'accordo io aspetto che mi dica qualcosa perché così poi la faccio quindi cosa vuol dire che mantengo una condizione ontologica di indigenza di povertà cioè qui Gesù per far capire la differenza che c'è tra vivere nella divina volontà cioè possederla e averla a disposizione e farla cioè non possederla ma come niente ma capirla e eseguirla di quando in quando c'è la stessa differenza che c'è tra un ricco e un clochard il clochard ogni giorno deve procurarsi ciò che è necessario per vivere perché se no si fa la fame il ricco no il ricco no soltanto che non deve procurarsi niente ma se è un bravo ricco qualche cosa di quello che gli avanza lo dà anche privo dei necessari questa è l'immagine che Gesù usa questa e allora attenzione la prima cosa sono le conoscenze poi sono gli atti d'accordo gli atti poi il discernimento imparare sempre di più per esempio abbiamo visto prima la libertà cioè vivere nella nella divina volontà vuol dire come dire progressivamente capiamo bene il senso di quello che sto dicendo è rinunciare al libero arbitrio per vivere la libertà che significa questa cosa qui ecco se uno ha capito quello che ho detto prima ha già capito il libero arbitrio è mi vendico o perdono il mi vendico se tu vuoi stare nella divina volontà deve proprio sparire cioè non c'è d'accordo non ci sta quindi perdono perdono subito faccio un perdono che perdono faccio semplicemente dimentico l'offesa prego per questa persona però nel discernimento che faccio è bene stare un pochino alla larga insomma ma non perché c'ho rancore ma perché è meglio così perché questo Dio vuole oppure ridiamo fiducia al 100% oppure devo pregare tanto però come tutte cose qua questo è certamente questo qui è da parte più questo ti fa è meglio è capito San Luigi Monforte diceva che la perfetta devoluzione è una Madonna la perfetta rinnovazione delle promesse battesimali cosa abbiamo fatto alle promesse battesimali abbiamo rinunciato al peccato alle sue opere e alle sue seduzioni d'accordo a Satana alle sue opere e alle sue seduzioni Satana è il propulsore è il principio è il tentatore le sue opere sono i peccati le sue seduzioni sono gli idoli del mondo con cui alletta le persone e li spinge a commettere una montagna di peccato con i soldi con il successo con queste cose qua che sappiamo tutti quanti allora differenza che c'è tra chi possiede la divina volontà e chi la fa e questo possiamo anche dire ma io sto cercando di entrare in questo mondo sono già entrato nella fase del possesso sono ancora uno che semplicemente fa la volontà di Dio lo vedi dice chi fa la mia volontà e non vive in essa sente uno la debolezza due le passioni tre tutti gli stracci e miserie che sono il corredore dell'umana volontà stracci e miserie le debolezze le debolezze morali cioè ti senti debole nel fare il bene lo fai con fatica se ti stanco le passioni le vedi vive purtroppo cioè ti accorgi quando stai cominciando a fare dei pensieri superbi e non riesci a controllarli ti accorgi quando senti muoverti dentro della passione dell'invidia attenzione a questo qui cioè io dico figlioli miei cari perché prima di prima di passare in questo mondo è mia personale convinzione che prima il signore ci faccia conoscere un pochino d'accordo perché tu devi prima conoscere bene quello che c'è nel tuo cuore e le cose bisogna chiamarle bisogna avere il coraggio l'umiltà di chiamarle per noi senti muoversi la passione della superbia e dici signore mio si muove in me la passione della superbia orrore cioè non la vorrei aiuta benissimo si sente la passione dell'invidia le cose più brutte io penso che chiunque di noi se deve dire a se stesso ma quanto è lo stato superbo per certi aspetti è meno vergognoso diremo che altro sono stato lussurioso la superbia è proprio una cosa brutta o pensiamo per esempio all'invidia se tu qualche volta sei invidioso anche spiritualmente di qualcuno di uno che è più santo di te oggettivamente d'accordo perché su alcune questioni ce ne sta poco da discutere se uno incontra un santo vero se uno se ne accorge e questo te rovina senza di manco una parola hai capito alla muta perché se vedi che è santo tra l'altro in via della grazia altrui tra l'altro andiamo sul penale si direbbe perché è una forma più grave di invidia rispetto ad altre se tu questa cosa la senti dentro di te ma tu questa cosa ne riprenderai tu la devi immediatamente portare al Signore immediatamente e dire Signore mio qui siamo ancora lontani dal possesso della tua volontà perché io questa cosa la sento quindi sto cercando di farla in qualche modo sto cercando di muovere mi sto moltiplicando gli atti ma siamo ancora lontani abbi pietati aiutami a liberarmi da questa cosa bruttissima però se io sento viva la passione dell'invidia non c'è il possesso della di una volta punto e basta ci sono altri stracci e miserie cioè guardate che anche qui un momento subito la mano avanti non è che uno vuole andare nel distruttivismo nel disfattismo però le volontà umane sono proprio brutte cioè una persona che vive è proprio brutta capite cioè gli esseri umani si attaccano a cose proprio piccole a cose piccine e chiacchiere il papa passa sempre a dire del chiacchiericcio mi sta bene niente non sono mai contenti di niente cioè sono cose proprio brutte capito cioè incapaci di un gesto propositivo bello cordiale le volontà umane vivono di cose brutte piccine brutte capito se va bene stanno sempre a lamentarsi a brontolarsi a pensare che sono gli sfortunati disgraziati della situazione se io faccio tutte le cose bene e invece mi vengono suoi cacci infatti tutte le cose cioè questo è il repertorio continuo cioè i caratteri cambiano le persone sono sono diverse ma se uno conosce un po' l'animo umano umano appunto vede ricorrere in continuazione tutte queste cose in tutte le sazze possibili poi sono come dire le 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 deficienze le mortificazioni dei cienci oggi diffusissimi psicologici cioè le personalità fragili inconsistenti ferite a volte distrutte con tutta quanto una serie qui per esempio una buona vita nella divina volontà cioè un cammino verso una vita nella divina volontà che ti invita a fare un po' di introspezione entrare dentro te stesso a chiederti per i perché profondi tu perché fai le cose per chi le fai e perché le fai cioè guarda che bellissimo entrare in questo in questo mondo per esempio per renderti con io un sacco di cose le faccio solo per me perché mi conviene perché mi piace perché mi interessa per carità cioè io posso anche fare delle cose che mi piacciono lecite delle cose che mi interessano lecite normali ma la vita nella divina volontà non è questa qua cioè tu fai una cosa non perché piace a te ma perché piace a Dio non a te è chiaro che poi le cose che piacciono a Dio se uno le fa in un certo modo piacciono pure a te disponda però capite è un piacere diverso non è un piacere egoistico mosso dal soddisfacimento dei tuoi delle tue voglie insomma dei tuoi desideri è diverso capite ci sono tutta avanti una serie di dinamiche psicologiche che sono smascherate completamente da chi comincia sinceramente a vivere nella divina volontà si mette davanti a se stesso e dice ma io che sto a fare perché sto a fare questa cosa qui ma la farebbe la madonna questa cosa qui io per esempio a mio avviso cioè ci sono ci sono alcune cose cioè questo è un cammino stupe bellissimo è certo che a volte uno fa delle sorprese cioè sapete cantero incontri delle sorprese dolorose e si dice mamma mia però meglio almeno hai smascherato qualche cosa capito ti sei tolto un'illusione capito perché la nostra cioè tu dici dopo sto sto marasma di Adamo è successo un macello perché questo che tu dico questo che si sta scritto qui di debolezza passioni stracce e miserie corredo dell'umano volontà questa esperienza comune ordinaria io parlo in continuazione con le persone le ascolto le guardo le frequento le vedo a tutti i livelli d'accordo quindi sia le persone che con me ci sono state per forza per esempio perché so parroco quindi sapete che un prete cioè alcune persone con me devono c'è un rapporto per forza che hai capito perché so parrocchiani cioè non mi hanno scelto d'accordo mi ci ha mandato il vescovo a me qua non è che ci sono per conto mio però c'è anche molte persone che mi cercano quindi che vengono a parlare con me che vogliono parlare con me quindi c'è un c'è anche una possibilità come dire di 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 valutazione diversificata anche delle situazioni personali no queste cose si riscontrano come dire a livello trasversale a livello universale quando ci si muove dentro l'orizzonte della divina dell'umana volontà è così quando si comincia a camminare perché io sono assolutamente convinto che questo è un cammino tranquillo graduale non è cosa di un giorno però che cosa succede che mano a mano che tu ti nutri non dico che non senti più le passioni ma le senti di meno le senti di meno questo è sicuro non è che non senti più le debolezze ma le cominci a sentire di meno non è che dall'oggi al domani non c'è più stracce e miserie d'accordo ma di meno e gradualmente sempre di meno quanto ecco spazio per ascoltare la parola del signore per esempio specialmente nei primi volumi ci faccio le meditazioni mattutine i primi volumi sono una scuola fantastica le ho chiamate come ci si prepara a vivere nel Fiat Supremo perché cioè se tu prima non fai tutto quanto il lavoro profondo di verità di te stesso di conoscenza di comprensione delle virtù no? ma dov'hai? capito? la prossima volta sentiremo adesso non ci abbiamo più tempo avrei voluto leggere un altro questa sera ma siamo quasi di un'ora e dobbiamo mettere punto per esempio la catechesi che Gesù fa su Adamo e Abramo bellissima come di Adamo non si poteva fidare più e invece di Abramo piano piano si è fidato sempre di più mettendolo a prova su prova quindi questo percorso questo cammino che poi il nostro signore vede come noi reagiamo vede come noi ci interfacciamo interloquiamo con lui quest'altro punto della relazione interpersonale con Dio che si comincia a vivere realmente in un dialogo fecondo che passa anche attraverso la conoscenza di questi scritti che diventano poi preghiera in noi diventano dialogo personale con Gesù ma questo è fondamentale questo qui io conosco tante persone che hanno veramente ricevuto un impulso nel senso ma anche persone che dopo la lettura degli scritti hanno cominciato forse per la prima volta a pregare nella propria vita cioè ad avere un rapporto personale con il signore con lui non superficiale non sempre mediato sempre al di qua no o addirittura trovando surrogati del signore guardate che tutte quante le forme di idolatria e qui anche rimando alcune bellissime cose che a proposito del primo comandamento suggestioni che ci ha lasciato recentemente il nostro punto tutte le forme di idolatria che è peccato gravissimo sono ricerche di surrogati di Dio cioè tu instauri con l'idolo il rapporto che dovresti instaurare con Dio cioè lo incensi pensi che il Padre Eterno è in terra crei legami affettivi crei dipendenze cerchi la soluzione di tutti i problemi perché queste sono esattamente le cose che tu dovresti fare con il Padre Eterno d'accordo perché l'uomo ativo non esiste stasera Gesù ci ha insegnato che la prima parola che ha detto Adamo è ti amo ecco facciamo un atto di superbia una cosa che la insegno io d'accordo l'ateo non esiste perché l'uomo ha un come dire ha un altare dentro la propria anima lì sopra quell'altare c'è qualcuno altare a cui si muola la vita si muolano i pensieri si fanno i sacrifici si farebbe qualunque cosa per quello che sta messo sopra quell'altare oggi c'è stato un triste anniversario del rastrenamento cioè voi capite che cioè quando trovano realtà tipo il nazismo ma io lo dirò ho visto i documentari la gente faceva i figli per Hitler Goebbels quando ha visto che era finito ha dato lui stesso le pasticche di Dicianuco a tutti quanti i figli alla moglie perché è morto Hitler ha finito la vita cioè ma quello che capite cioè nella capoccia di quelle persone un uomo è tra l'altro un uomo di quasi inesistente spessore era diventato il padre eterno ma veramente non per scherzo quindi Goebbels era Atio no 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 Goebbels aveva il Dio Hitler ma no non è una metafora che si diceva Atio Hitler no no quello era proprio il Dio Hitler capite e guardate questa cosa qui c'è anche il Dio squadra di calcio tutte queste cose vanno smascherate sennò che te vita è una divina volontà capite qui c'è un'operazione di smascheramento cenci strasci miserie debolezze e passioni queste cose qui vanno guardate in faccia capite perché nostro signore non te le toglie se prima tu stesso non le hai viste bene perché prima di darti il dono della divina volontà e faccio l'altro tre della prossima puntata deve fidarsi di te deve fidarsi di te e lo vedremo la prossima volta in che senso deve fidarsi di te una santa notte a tutti e viva la divina volontà e ci vediamo se ti guardo la prossima puntata su queste frequenze Fiat Ave Maria Grazie 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 Grazie